quindi qui possiamo vedere di dimossi da morfos la navicella spaziale sta navigando autonomamente è bloccata con precisione sull'asteroide illuminato da una luce lunare avvicinandosi ad una velocità di 4.000 mila al secondo e adesso potete vedere dimorphos che riempie nettamente lo schermo non abbiamo mai visto questo oggetto prima centrato inoltre abbiamo un'incredibile altra risoluzione d'immagine dalla fotocamera dart draco è bloccata con precisione sull'asteroide illuminato da una luce lunare avvicinandosi ad una velocità di 4.000 mila al secondo 4.000 mila al secondo 4.000 mila al secondo sono pari ad oltre 6.400 chilometri al secondo vale a dire oltre 386.000 chilometri all'ora l'asteroide ha un diametro di soli 170 metri chi volete prendere in giro che macchina fotografica in grado con una luce pari a quella della luna di scattare una immagine con questi dettagli ad una velocità di 6.400 chilometri al secondo fate un piccolo paragone con l'avvicinamento di un aereo alla velocità del suono di soli 343 metri al secondo con una porta aerei che sarà lunga 300 metri contro i 6.400 chilometri al secondo dell'avvicinamento all'asteroide che è la metà della nave siete imbroglioni e solo le amebbe attaccate ai videogiochi riescono a credere alle sciocchezze lontane da qualsiasi realtà e adesso potete vedere Dimorphos che riempie allentamente lo schermo non abbiamo mai visto questo oggetto prima centrato non abbiamo mai visto prima ma siete veramente così ignoranti? altra balla questa immagine radar di Didymos e Dimorphos è stata fatta nel 2003 dall'osservatorio Arecibo inoltre abbiamo un'incredibile altra risoluzione d'immagine dalla fotocamera Darch Draco e invece qui dove poggiate i piedi si sfoca automaticamente quando raccontate le balle forza mebbe continuate a credere in quello che la fantascienza vi racconta un abbraccio a tutte le anime di buona volontà grazie a tutti Grazie.